Musica Mercati ancora vuoti e tensione a Torino, arrestato un camionista, 32 denunciati, mattinata corteo degli studenti, ad Astia e Alessandria la protesta vinta dalla stanchezza. E buongiorno a voi tutti che seguite il telegiornale del Piemonte, e con l'ora la cronaca di un'altra mattinata di blocchi e di cortei per il terzo giorno consecutivo a mercati vuoti a Torino. Ci sono stati momenti di tensione tra automobilisti e manifestanti in corso Regina Margherita e davanti ad alcuni centri commerciali una manifestazione degli studenti ha contribuito a mandare in tilt il traffico in centro. Poco fa è stato arrestato un camionista di Ivrea in Piazza Derna a Torino, 32 persone denunciate per i blocchi dei giorni scorsi. E noi siamo collegati con Matteo Spicuglia che è in Piazza Castello. A te la linea. Buongiorno, buongiorno Nino. Sì, dicevi bene, un'altra mattinata difficile, una mattinata di proteste, proteste estemporanee, proteste che sfugono anche al controllo. Sono in Piazza Castello, qui tra poco dovrebbero confluire i quattro cortei spontanei che questa mattina si sono snodati per le vie del centro. Dicevi, ci sono stati ancora blocchi, blocchi estemporanei, anche di piccoli gruppi. Si sono segnalati in particolare disagi su Corso Regina, su Via Bologna, su Corso Unione Sovietica all'altezza dell'ingresso nella tangenziale Sud e così anche l'ingresso della tangenziale a Torino Caselle. È una protesta dunque che continua, c'è chiaramente sempre il malessere, i temi che sono emersi in questi giorni. E appunto, dicevi anche una notizia arrivata poco fa, un primo arresto, un camionista che è stato fermato, si chiama Conto Cristella, in Via Aderna. Il mezzo è stato sequestrato e l'accusa è quella di violenza privata aggravata. Quindi è una situazione che si sta in qualche modo evolvendo, che è comunque una protesta che comunque, dicevamo, continua. Ci sono segnalati anche, dicevate, i mercati continuano ad essere chiusi, così Porta Palazzo, così in altri mercati della città. Ci sono stati anche presidi davanti a centri commerciali e supermercati. Dicevamo, la situazione del traffico è in evoluzione, c'è un bollettino diffuso dalla Polizia Municipale sul sito del Comune di Torino, www.comune.torino.it. Ci sono aggiornamenti continui, quindi il consiglio per chi deve mettersi in viaggio oggi è quello appunto di controllare il sito del Comune. Oggi pomeriggio che cosa accadrà? Oggi pomeriggio ci saranno nuovi cortei, ci sarà soprattutto una manifestazione in programma qui tra Piazza Castello e Corso Vittorio a partire dalle ore 18. Per il momento è tutto, vi resituisco la linea. Grazie a Matteo Spicuglia e noi andiamo ad Asti e ad Alessandria dove la stanchezza sembra avere avuto la meglio sulla protesta. Vediamo. Ad Asti nessuna protesta, il mercato si svolge come sempre, il traffico è regolare, il movimento 9 dicembre o dei forconi come lo si voglia chiamare ha gettato le armi. Sicuramente siamo un po' delusi, in realtà non riusciamo a capire dove siano le persone che dovevano protestare. Anche qui il cuore della protesta è la piccola impresa individuale. Luca Nardi, uno dei leader, aveva una sua ditta per la formazione professionale e ora ha chiuso. Ho dovuto chiudere la partita IVA perché erano più le spese che dovevo pagare che quello che incassavo con le fatture. Una situazione molto comune la sua, fra quelli che hanno aderito alla protesta, è la protesta della piccola impresa. Sì, infatti. Si è mai chiesto come mai non c'è il lavoro dipendente con voi? Ce lo siamo chiesti, sì, ma non riusciamo a darci una risposta. La protesta è invece continuata ad Alessandria, dove con l'aiuto di un gruppetto di studenti stamane è stato montato un gazebo davanti alla prefettura. Per come siamo abituati noi credo che sia abbastanza un mezzo successo, perché normalmente questa provincia restia le manifestazioni a svegliarsi. L'obiettivo è sempre lo stesso e ricorre con esasperazione e rabbia. Da 30 anni che ci stanno massacrando, quindi vorremmo semplicemente che se ne vadano. Finirà che arriveremo veramente allo scontro fisico perché non se ne può più. Qui ad essere in crisi è soprattutto la piccola impresa agricola o di trasformazione, ma pesa anche la contrapposizione fra città e campagna, fra periferia e centro. Un malessere diffuso che raccoglie pure l'angoscia di coloro, come gli studenti, che non vedono un domani. Vorremmo un futuro, vorremmo una possibilità di avere un lavoro più avanti. Noi sappiamo che adesso saremo disoccupati, finiti le scuole. Non c'è futuro dopo. E questa mattina a Pinerolo i camion dei manifestanti parcheggiati in Piazza Vittorio Veneto hanno occupato tutto lo spazio utilizzato per il consueto mercato del mercoledì, che non si è potuto svolgere. E mentre la protesta dei Forconi bloccava le principali vie d'accesso alla città, da sotto il municipio è partito un corteo organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani e dalla locale sezione del Partito Democratico, al quale si sono uniti alcune centinaia di cittadini. Al corteo, che chiedeva il rispetto della legalità, ha partecipato anche il sindaco di Pinerolo, Eugenio Buttiero.